Salve a tutti ragazzi, sono WorldThomas, grazie per la visione di questo nuovo video Oggi come avete visto il titolo vi farò vedere la mia nuova transizione Che utilizzerò per cambiare le scene, le varie scene su OBS Quindi intero nelle mie dirette o anche nei video E' stata realizzata la bronx, su quale canale la trovate in descrizione e dopo lo farò anche vedere Quindi passiamo subito a mostrare questa transizione Con una scena a caso, così Avete visto cazzo, è bellissimo, mi piace un sacco Cambiamo ancora qualche scene Così vi faccio vedere Se il commento dovrebbe sentirsi a mia voce anche nell'intermezzo, si dovrebbe sentire Molto bello, eh? Che ne pensate? Cosa ne pensate? C'è un bel mi piace se vi piace questa nuova transizione Iscrivete al canale se non si iscritti Adesso passiamo un attimo a vedere qui il canale di bronx Così intanto usiamo una scusa per cambiare un po' un pochino di scene Eccolo qua al canale, vi consiglio di iscrivervi Se non sono iscritti quindi speriamo che salga di più E come potete vedere, intanto qui in alto a sinistra ho tantissime schermate aperte Twitch, DLive, eventi YouTube e anche Restream Perché a breve andrò, anzi ieri Avete già visto, visto che il video uscirà Il 10 Allora è penso 16, qualcosa del genere Potete trovare sul mio canale le dirette, tre dirette Delle conferenze come potete vedere qui Di E3, Microsoft, Bethesda e Devolver Digital Quindi vi consiglio di andarle a seguire Ora torniamo qua sulla scheda videocamera Quella è la bella transizione Quindi ragazzi per questo video è tutto Ci vediamo al prossimo video e ciao Un video, un video, un video, un video Un video, un video, un video, un video